Buongiorno a tutti ragazzi, come sempre ben ritornati dal vostro giorno. Questa mattina parliamo di un argomento che ha tanto fatto discutere l'ambiente interista in questi giorni in cui non si giocherà per via delle nazionali. E sto parlando ovviamente della figura di Beppe Malotta, quest'ottimo dirigente ex-SAMP che è stato appena appena giubilato dalla Juventus di Mono Ciganielli non meno di un mese fa. Si dice anche per lo scandalo con l'Andrangheta che è stato ben documentato da Report nelle ultime settimane però il fatto sta che Malotta è libero, letteralmente libero e non è nemmeno nel registro degli indagati tanto per smentire coloro che dicono che Malotta è stato cacciato per via della faccenda Andrangheta e quindi pare molto molto probabile, mancano ovviamente, nonostante ovviamente smentire il rito che però fanno parte chiaramente del gioco, potrebbe diventare, penso nelle prossime settimane il prossimo direttore generale dell'Inter. E quindi a tal proposito permettetemi in questo video di esprimere la mia opinione riguardo a Beppe Malotta. A prescindere dal fatto che Beppe Malotta provenga da quell'ambiente di diversamento onesti che insomma è di dubbia moralità, ma non è questo l'argomento del mio video considero Beppe Malotta sostanzialmente un ottimo dirigente un personaggio che con pochi soldi da prima e con molti soldi dopo è riuscito a portare a casa dei giocatori che noi tutti conosciamo veramente di gran livello vi ricordo Pogba appena 19enne a parametro zero vi ricordo Andrapillo 34enne a parametro zero vi ricordo Bazzagli preso a 300.000 euro qua non nessuno ci credeva posso parlare di un giocatore come Arturo Vitale un giocatore ex Bayer Leverkusen che fu comprato dalla Juventus a 8 milioni e mezzo e poi rivenduto a 45 milioni circa la Bayer de Monaco per Pogba insomma ho già detto acquistato a zero e rivenduto a 110 milioni di euro con una commissione monstra che si è preso Mino Raiola curatore di questa operazione come penso già me sappiate quindi Marotta nel suo operare da dirigente che conosce il mondo del calcio come le sue tasche e che comunque sa fare la faccia cattiva nei confronti dei giornalai cosa che ci serve assolutamente in quanto il pur ottimo Pinedo Auxilio ha come unico grande difetto quello della comunicazione proprio davanti ai giornalai perché sinceramente diciamo così perché sinceramente faccio fatica a riconoscere la quasi totalità di giornalisti sportivi italiani come giornalisti aperte cosa parentesi ecco quindi che Marotta ha sempre operato in modo ottimo poi per carità ha commesso anche dei ruoli di mercato specialmente all'inizio della sua avventura bianconera ma fatto sta che Marotta ha sempre comprato intelligentemente sia tanto che a poco e poi ha ceduto i suoi giocatori facendo generare a Juventus un botto di Plus Valencia ovviamente questa figura non è lontanamente paragonabile a un Walter Sabatini altro maestro del generale Plus Valencia per carità la vita per carità la vita però stiamo parlando sempre per quanto riguarda Marotta di un dirigente che ha questa Inter che si sta sviluppando sia dal punto di vista del fatturato sia dal punto di vista della squadra sia dal punto di vista comunque dei risultati anche se secondo me per lottare ai vertici in modo concreto ci vorranno ancora tanto tanto un paio di anni ecco quindi scusate per una società di informazione ma in forte crescita come l'Inter ecco quindi che una figura come Marotta nell'organigramma della bella amata non mi dispiacerebbe affatto poi certo ripeto Marotta Marotta secondo alcuni è un groppo secondo alcuni altri proviene da un ambiente diversamente onesto per così dire prendendola per un attimo a ridere per carità le opinioni sono sacrosante e rispettabili però sinceramente Marotta qualora dovesse venire all'Inter come molto probabile che sia susciterebbe la mia soddisfazione perché quando uno è bravo a prescindere dal fatto che sia interista milanista gioventino romanista è vero se uno è bravo è bravo e se una società che oltre a curare il proprio business vuole curare anche gli interessi della squadra facendola crescere sempre di più sul campo ecco quindi che io lo prenderei fosse la società e ciò molto probabilmente avverrà come ho già detto nonostante ovviamente le smentite di dito che sono praticamente il pane quotidiano del mondo imprenditoriale del mondo imprenditoriale del calcio attuale ma state certi che Marotta probabilmente molto probabilmente arriverà e finalmente diciamo diventerà il direttore generale direttore generale dell'area sportiva precisiamo perché si pensa che Antonello che adesso ricopre il ruolo sempre di direttore generale ma per gli affari amministrativi contabili rimarrà probabilmente al suo posto quindi Marotta a mio modesto avviso potrebbe essere un ottimo innesto per quanto riguarda la governance se vogliamo usare un termine inglese tecnico di questa inter con buona pace di coloro come ad esempio un famoso giornalista intervista di cui seguo molto spesso le dirette che adesso mi viene a parlare di intervismo sinceramente parlando secondo me in questo frangente l'ha fatta leggermente fuori dal vaso non voglio offendere nessuno per licenza e per rispetto nei confronti di questo personaggio che penso ben conosciati però un conto è parlare di interismo in cui di interismo in cui si parlava anche di Moratti aperto e cosa parentesi con l'addio di Moratti all'Inter praticamente è finito un ciclo è finita l'era dell'interismo dudo e puro in cui genti di provata fede nell'azzurra faceva parte anche dell'organigramma societario ma i tempi sono cambiati come si sa ora il calcio come direbbe il mio amico Chris che qui saluta è diventato fondamentalmente business in cui contano i risultati sia sul campo che anche dal punto di vista societario contabile quindi questa questione tra l'interismo tra l'interismo e il business è una cosa che non c'entra un benamato cavolo a merenda come si dice quindi e soprattutto mi si viene a parlare di coerenza del tifoso intervista medio che sarebbe poca così come la memoria ma in questo caso la coerenza a quanto pare per questi personaggi è un optional nel senso che è bello parlare di Suning è bello parlare di come la società sta facendo quadrare i bilanci di come sta facendo crescere il brand il fatturato e via dicendo ma questa cosa ripeto inevitabilmente va a cozzare con l'interismo che è un'altra cosa che è un altro concetto che non c'entra assolutamente un tubo con il calcio attuale quindi ecco penso che l'opinione di questo giornalista sia stata un pochino esagerata secondo me la coerenza per costui è un qualcosa che va come il vento insomma ma quando conviene è necessario tirarla fuori a suo avviso però ripeto questa è una mia opinione nel pieno rispetto del lavoro altrui però certe cose a mio avviso vanno dette e quando vanno dette vanno dette bene quindi ragazzi con questo mio video spero di aver chiarito la mia posizione riguardo a Marotta una posizione che dunque riterrei sostanzialmente favorevole pur con qualche piccola piccola riserva sul fatto che sia venuto da quell'ambiente di riversamento onesti ma ripeto se uno è bravo se uno è valido se uno conosce l'ambiente del calcio attuale come le sue tasche e se soprattutto riesce ad interfacciarsi bene con la stragrande maggioranza dei giornalai italiani perché faccio fatica francamente a riconoscere questi giornalisti sportivi come i giornalisti veri e popi allora benvenga una figura come Marotta alla faccia dell'interismo e alla faccia di tutto il moralismo da quattro soldi che si sta facendo tuttora quindi ecco ragazzi con questo fatemi sapere che cosa di pensare riguardo questo video ovviamente se non l'avete già fatto iscrivetevi al mio canale youtube che è al mio canale youtube che è Johnny Sinterconner alla pagina facebook qui è scorrelato che è interismi ed intorni youtube channel e ovviamente al nostro gruppo facebook che recita sempre interismi ed intorni quindi ragazzi con questo vi saluto vi auguro una radiosa giornata di metà novembre e ovviamente come sempre ricordate sempre di fare la fottudissima maia ciao ragazzi